In questo ultimo periodo Franca Pisani è famosa per le sete di Lione, quelle che hanno impassato a Monte Cassino e prima ancora la macro a Roma, però c'è un altro momento di Franca Pisani estremamente colorato, estremamente vulcanico e particolarmente innovativo, ed è quello degli smalti. Questo è uno dei rarissimi smalti di Franca Pisani, ne esistono pochissimi al mondo. Il segno primordiale è sempre il medesimo, quindi questa voglia di comunicare che pensate è preso addirittura dalla notte dei tempi, dalle grotte, dall'uomo primitivo, quando scalfiva la roccia nel primordiale tentativo di lasciare un qualche oggetto comunicativo al prossimo. Ed è qui che parla Franca Pisani, perché il suo è un segno universale, è un linguaggio dei popoli, è un linguaggio totale, è la voglia di comunicare. E questa volta però lo fa con gli smalti, quindi mette da parte per un attimo la sua ricerca segreta, quella con gli ossidi che non abbiamo mai saputo, mai scoperto realmente come siano realizzati, e lavora con la brillantezza degli smalti. E una volta e per tutte Franca Pisani con questo ciclo pone fine a un fastidioso equivoco che lei detesta, che è quello della cornice. Le opere di Franca Pisani non devono avere cornice, a meno che non siano delle carte o dei papier-mâché. Franca Pisani lo dice, lo ripete, spesso e volentieri i mercanti non le danno retta, e allora in questo ciclo lei decide di dipingere la cornice stessa. Lei non predilige l'uso della cornice per il semplice fatto che, a differenza di altri artisti, non è taccagna con il telaio, anzi, i telai di Franca Pisani sono molto spessi, molto importanti, molto larghi, con dei legni pregiati. E quindi le opere di Franca sono dipinte anche ai lati, e in questo caso lei ha voluto creare una scatola emozionale, una scatola emotiva che vada a inglobare quelli che sono i linguaggi dei popoli. L'opera è pubblicata, l'opera è importante, e per questo lavoro puoi addirittura proporre un prezzo tu. Io vi posso solamente dire che questo è un genere di lavoro che viene venduto a un prezzo fisso che è di 4.800 euro. Fate voi una proposta, fate voi il prezzo. Grazie a tutti.